che è successo hai avuto un'idea o mamma e che idea è questa si fa un bel gioco allora si questa si è stata più veloce senti un po ma qual'è la macchina quella birbona verde che ha fatto bom a tutte quella lì eh che birbona ma te ma te ce l'hai un'idea per fare qualcosa non ce l'hai un'idea no senti una cosa quando eri piccolo te come facevi all'altro lavaggio e baggi e rullu ci 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 me lo dici per favore per favore solo una volta mi fai e baggi e rullu ci 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 sennò vado via non si gioca più eh e no e baggi e baggi e rullu e rullu e ci 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 sull'ultimo ci 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 action di real disondazione Ciao Andrea! Faccia bene il cuore! Lui! Lui! Dai! Gui! Non si ferma! Non si ferma? Non funzionano i freni o perché Bilbono va a lui al diritto? Non funziona i freni! E dov'è? E dov'è l'officina? Chi lo sa? Non si sa! Chi lo sa? E non si sa! E l'officina dove sta? Non si sa! Chi lo sa? E è là! E che forse è qua! E è di là! E bababì! E tatatà! E io ti do una legnata sì perché sei brutto! Brutto! Senti, senti, senti! One to three! Tira il dito! Tira il dito! Tira! Tirano! Tira il dito! Tira il dito! Ti schiaccio tutto sì? Perché sei brutto, brutto sì, fai, 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 sì, 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 e ti prendo il collo sì, perché ti voglio bene, dammi il collo, dammelo, dammelo, dammi il collo sì, e io ti stisciamo sì, e ti sistemo perché sei bel, bel. Ma come? Si mette su YouTube sto video, si guarda sulla televisione? Questo video che ti sto facendo ora? No. Come no? No. O dai. No. O dai. No. O dai. Un'idea!